a video abbiamo un rilievo gps con una base ho attivato la visualizzazione dei punti indipendente dallo zoom tramite questo pulsante qua che è utile in questi casi perché a qualsiasi livello di zoom ho i testi sempre visibili posso attivare anche la visualizzazione delle misure è una base distante quindi una base gps con un classico rilievo gps insomma scopo di questo video è far vedere come creare dei nuovi punti e collegarli poi alla base o stazioni celerimetriche e così via allora iniziamo qua abbiamo un fabbricato che è stato solamente parzialmente rilevato con il gps e idem questa situazione c'è un altro fabbricato rettangolare che è stato anche questo solamente rilevato con gps solamente con due punti adesso andiamo ad integrare i punti che mancano ho già provveduto con i comandi cad a tracciare la sagoma del fabbricato quindi semplici comandi linea per cui l'ho già tracciato sulla base delle misure del fabbricato rilevate sul posto oppure dal progetto ho attivato lo snap anche su estremi questo perché avendo già tracciato appunto le linee fabbricato andando nel menu topografia punti topografici con il comando nuovo punto mi consente di inserire un punto topografico su una posizione generica cliccando sullo schermo ma avendo appunto attivato lo snap su estremità se mi posiziono in corrispondenza della linea lui va a prendermi l'estremo e per cui vado ad inserire un punto topografico nell'estremità della linea lui mi propone il numero il nome del punto 112 iniziamo dal 120 la descrizione spigolo fabbricato codice spigolo sf ok la quota lui mi mi propone già la quota di 58 metri che l'ha presa automaticamente dall'estremità della linea ok ha inserito il punto 120 iniziamo anche quel punto 121 confermiamo adesso con il tasto destro spigolo fabbricato sf la quota la confermiamo ecco qua che abbiamo inserito il punto 121 quindi una volta che ho inserito le descrizioni la prima volta anche il nome del punto programmi in automatico mi ripropone il nome del punto successivo con le stesse descrizioni e codici e io faccio altro che confermare il tutto con la pressione del tasto destro del mouse per cui l'operazione diventa molto veloce facciamo anche questo punto qua 122 tasto destro tasto destro tasto destro ecco qua che abbiamo inserito tre punti topografici sono da inserire anche questi qua ma li lascio in stand by perché poi nel proseguo del video farò vedere altre funzionalità questi tre punti topografici adesso sono di fatto inseriti all'interno del lavoro compaiono nella grafica però non appartengono a nessun libretto delle misure ovvero come vedete mancano delle linee di collegamento delle misure vere e proprie delle baseline che vediamo qua in rosso che sono i componenti delle baseline perché sono stati inseriti però non sono stati ancora collegati al libretto delle misure adesso supponiamo che questi tre punti qua siano dei punti che non sono non è possibile rilevare con il gps no per cui diciamo simuliamo una sorta di rilievo misto per cui ci posizioneremo con una stazione totale in corrispondenza più o meno di questa posizione qua andremo poi a rilevare questi punti allora adesso vado a inserire un punto topografico in corrispondenza della zona in cui verosimilmente stazionerò con la stazione totale quindi questa posizione qua però prima di farlo vado a inserire come diciamo interpolazione delle quote quindi da questo menu qua in basso e andiamo ad inserire la modalità di interpolazione della quote da google con quote elissoidica sappiamo che questo è un rilevo gps per cui con questa funzione il programma va a interrogare automaticamente i server di google calcolo la quote elissoidica del punto e me la propone in automatico quindi vi hanno detto la posizione va benissimo questa ok come come z da google infatti me lo mi conferma diciamo l'opzione che abbiamo inserito il nome del punto è una stazione celerimetrica la chiamiamo 100 la descrizione non sarà più spigolo fabbricato ma chiamiamo stazione il codice chiamiamo st ok e la quota lui mi propone automaticamente la quote elissoidica che ha rilevato da google 59 989 ok adesso ha creato il nuovo punto 100 allora questi quattro punti che ho creato sono tutti i punti se io mi fermo sopra con il mouse vediamo che non appartengono a nessun libretto delle misure a mente se mi fermo sopra il punto 102 qua per esempio vedete che il compare l'imbretto delle misure nuovo rilievo e il punto è collegato allora adesso andiamo a collegare anche questi punti qua allora il punto 100 dovrà essere collegato necessariamente alla base perché quando vado a fare un rilievo gps verosimilmente uno dei possibili schemi di orientamento è rilevare con il gps la posizione della stazione per cui vado nel menu misure c'è tutto un sottomenu qua libretto delle misure faccio collegamento a base gps per cui mi dice il programma di selezionare i punti da collegare quindi mi seleziono solo il punto 100 confermo la selezione mi dice guarda selezionami la base di collegamento la base di collegamento adesso avevo spento il layer però si trova qua eccola qua l'altezza antenna mettiamo due metri ed ecco che anche il punto 100 è stato collegato alla alla mia base questa linea sta ad indicare le componenti delle baseline che il programma ha calcolato se faccio doppio clic sopra ecco qua ci sono le componenti delle baseline il programma ha calcolato anche le matrici di varianza e covarianza pedop e così via per cui a tutti gli effetti questo adesso è un punto rilevato con il gps allora adesso abbiamo detto che vogliamo che questo punto qua diventi una stazione accelerometrica come faccio vado sempre nel menu misure libretto delle misure nuova stazione eccola qua vado a cliccare sul punto che diventerà la nuova stazione punto 100 l'altezza strumentale mettiamo 1.53 la stazione di lancio o un punto di orientamento il punto di orientamento facciamo il punto 108 che è un punto rilevato con il gps altezza prisma mettiamo 1.50 ok quindi adesso il programma ha creato come vediamo qua sulla sinistra la stazione 100 la cui posizione è stata rilevata con il gps perché abbiamo la baseline e si è orientata con il punto 108 anche questo rilevato con il gps adesso non resta che collegare a questa stazione accelerometrica questi tre punti che ho inserito prima quindi andiamo sempre nel menu libretto delle misure in questo caso non selezioniamo più collega a base gps ma collega a stazione andiamo a selezionare tutti i tre punti confermiamo la selezione selezioniamo adesso la stazione quindi l'accento l'altezza prisma mettiamo 1.50 ed ecco che il programma ha creato le componenti letture ai punti 120 101 102 se faccio doppio clic sopra questo vediamo che ci sono le letture angolari e la distanza con l'altezza prisma abbiamo visto come creare dei punti topografici su posizione generica oppure su posizione derivante da disnap ad oggetto del cad adesso vediamo come è possibile creare dei punti topografici attraverso dei calcoli geometrici attraverso alcune modalità le modalità per la determinazione dei punti topografici in modalità geometrica si trova sotto questo menu qua punti cogo no e le modalità di calcolo sono tutte queste qua che compaiono su questo menu le utilizziamo adesso per costruire questo fabbricato che come vedete ho inserito solamente due punti però non ho tracciato a cadda la sagoma allora si tratta di un semplice rettangolo allora andiamo ad inserire un punto in corrispondenza del punto 102 per cui andiamo punti cogo utilizziamo il menu punto a squadro il programma mi chiede il punto 1 punto di origine dell'allineamento il punto orientamento dell'allineamento la distanza in questo caso metto 0 perché è in corrispondenza del punto 2 e lo squadro è 8 metri verso destra per cui scrivo più 8 ed ecco che il programma mi propone in anteprima la posizione del punto che questo qua che vediamo in arancio vi diamo il nome chiamiamola 130 ok la descrizione come prima adesso rimane uguale spigolo fabbricato codice sf ok ed ecco che ha creato il il programma questo punto non mi chiede la quota perché la quota la calcolo in automatico sulla base della diciamo del calcolo che fa quindi abbiamo creato il punto 130 andiamo a chiudere il rettangolo andiamo sempre su punti cogo utilizziamo la funzione quarto punto rettangolo quindi selezioniamo il primo punto secondo punto terzo punto mi propone in anteprima il quarto punto eccolo qua il 131 confermo spigolo fabbricato sf ed ecco che ha creato il punto 131 ci sono anche questi due punti qua da collegare qui andiamo nel menu come abbiamo visto prima misure collega a base gps selezioniamo lì qua confermiamo la selezione andiamo a prenderci la base qua giù in fuori se non vogliamo dimenticavo se non vogliamo andare a zoomare come faccio adesso con la base distante possiamo utilizzare anche la tabella quindi clicchiamo tab compare questa tabella la il punto topografico la base rappresentata dal punto 004 seleziona altezza antenna due metri ed ecco che anche qua abbiamo creato il punto 130 e 131 l'abbiamo collegato alla base se andiamo un attimo sul libretto delle misure andiamo a verificare tutto vediamo che ci sono il punto 130 al punto 100 della stazione che abbiamo visto prima il punto 130 al punto 131 collegati ci sono c'è la stazione accelerometrica 100 con il punto 108 120 121 e 122 per cui il libretto delle misure è perfettamente aggiornato se vi ricordate prima avevo lasciato di proposito indietro questi punti qua che sono dei punti del fabbricato che mancano però non li ho proprio inseriti e nemmeno collegati questo perché la modalità di creazione di punti topografici soprattutto di collegamento di inserimento nel libretto delle misure è configurabile all'interno di topos quindi adesso andiamo a cambiare modalità ovvero andiamo nel nell'impostazione generale del programma clicchiamo su questa icona forma di ingranaggio se andiamo su file impostazioni programma andiamo su preferenze ed ecco qua che compare questa finestra nella quale abbiamo modalità di inserimento e collegamento di nuovi punti topografici possiamo decidere di quando inseriamo colleghiamo meglio un punto topografico alla base se chiedere sempre l'altezza antenna se vi ricordate il programma mi chiedeva l'altezza antenna o se decidere di non chiederla quindi saltare questo passaggio di default e mette due metri idem se richiedere l'altezza prisma se vi ricordate il programma chiedeva l'altezza prisma chiedere sempre il codice del punto e inserire chiedere l'inserimento conferma della quota quando abbiamo inserito la stazione 100 per esempio il programma mi ha chiesto mi ha proposto una quota mi ha chiesto di confermarla disattivando questa opzione avrebbe confermato automaticamente il valore di default diciamo queste tutte queste opzioni servono per in un certo senso personalizzare e velocizzare l'inserimento dei punti topografici allora un'altra modalità di inserimento è quella che mi obbliga tra virgolette a selezionare la stazione o la base dopo ogni inserimento del punto ovvero fino adesso io ho inserito un tot punti e dopodiché li ho collegati tutti assieme alla base o alla stazione mentre potrebbe uno potrebbe dire preferire guarda io ogni punto che vado ad inserire nella grafica voglio subito automaticamente collegarlo ad una stazione o ad una base per attivare questa opzione basta che attivo questa opzione qua appunto seleziono la base stazione allineamento dopo ogni inserimento punto quindi ok adesso andiamo ad inserire i punti che mancavano quindi ci posizioniamo su layer punti rilievo che quello che dove che contiene i punti andiamo nel menu topografia nuovo punto torniamo con la vecchia modalità andiamo con lo snap ad inserire il punto nell'estremità eccolo qua il punto lo chiamiamo 123 la descrizione spigolo fabbricato codice sf la quota che abbiamo lasciato confermiamo il valore proposto e vediamo adesso il programma mi fa vedere questa finestra qua nella quale mi dice guarda il punto che hai appena creato dove lo inseriamo nel liberatorio misure a che cosa lo colleghiamo quindi a questo punto io decido di collegarlo alla stazione 100 quindi la stazione 100 l'altezza prisma un metro e cinquanta ok ed ecco che automaticamente il programma mi ha creato il punto 123 collegandolo automaticamente alla stazione 100 idem qua supponiamo di creiamo un punto qua 124 ok spigolo fabbricato sf la quota proponiamo questo in questo caso qua non vado più a collegarlo alla stazione 100 perché non è visibile ma vado a collegarlo alla base gps supponiamo che questo punto sia rilevabile direttamente dalla base quindi seleziona la base altezza antenna 2 metri seleziona ed ecco che il programma mi ha calcolato la baseline collegandolo alla base le baseline misurate sono di diciamo con linea continua mentre le baseline dei punti calcolati per diciamo differenziare i punti calcolati con i punti rilevati sono in questa linea tratteggiata però ai fini della precisione ai fini dell'esportazione verso pregeo non cambia assolutamente nulla è solamente una visualizzazione in terra per differenziare i punti se facciamo doppio clic sopra un punto misurato si calcolato vediamo che sulla soluzione troviamo calc ovvero che punto calcolato se facciamo doppio clic sopra una baseline rilevata andiamo sulle sulle dati estesi e vediamo che la soluzione questa infix però ripeto non cambia assolutamente nulla tutti i punti anche questi qua calcolati sono dotati di matrice varianza covarianza dpdop gtop e così via per cui sono perfettamente utilizzabili anche per qualsiasi diciamo lavoro topografico in particolare lavoro pregeo come abbiamo visto prima il libretto è già aggiornato per cui se andiamo nel libretto andiamo a verificare insomma qua ci sono tutti i punti peso l'ultimo 124 le stazioni con tutti i punti gli allineamenti così via per cui c'è già corrispondenza tra grafica e libretto per un ulteriore conferma andiamo a elaborare il libretto di nuovo anche se di fatto è già elaborato a questo punto andiamo ad attivare l'opzione anche orienta prima stazione perché prima era un libretto solamente gps adesso di fatto è diventato un libretto misto perché abbiamo la stazione la base più la stazione celerimetrica no per cui andiamo a disattivare queste opzioni qua ok clicco su elabora libretto corrente mantenere le caratteristiche si va bene ok come vedete adesso il programma mi dice bom è l'origine del sistema locale rimasta sul punto che c'era prima ha calcolato la stazione 100 la stazione 100 è una stazione libera orientata sul punto 108 se vi ricordate il punto 108 era il punto che avevamo scelto per orientare la stazione ed eccolo qua sulla quota vabbè non avevo calcolata per cui è venuto fuori uno scarto elevato per insomma non non c'è nessun problema sul punto 108 ed ecco qua che sono l'elaborazione del libretto è stata rifatta torniamo in planimetria e vediamo che lo schema del rilievo è esattamente identico a prima segno insomma che i nuovi punti inseriti sono stati inseriti in maniera corretta e il libretto risulta conforme a quello che è visualizzato in grafica per quanto riguarda la creazione di nuovi punti io direi di terminare qua questo video grazie